200.000 euro per la riqualificazione dell'Istituto Castorani di Giulia Nova. Lo ha annunciato la neopresidente dell'ASP2 di Teramo, cui il Castorani fa capo, Giulia Palestini. La Palestini, nominata dall'assessore regionale quaresimale alla guida dell'azienda pubblica dei servizi alla persona, ha dichiarato che il progetto è per i circa 20 bambini del Castorani e che la somma deriva dal bando per gli investimenti su attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale. Dei 200.000 euro, 11.000 saranno spesi per realizzare una ludoteca nello stabile, circa 40.000 per il recupero di alcune mappe conservate nell'Istituto e ben 150.000 per la riqualificazione del campetto da calcio adiacente. Campetto che rappresenta un lascito al Castorani, purché avesse scopi sociali. Per oltre 20 anni però, fatta eccezione per la breve parentesi in cui fu parcheggio della Polizia Municipale, il campetto è rimasto abbandonato, fino a quando, cinque anni fa, è stato occupato senza autorizzazioni da alcune persone che lo hanno rianimato, con tante iniziative culturali e sociali, autogestendolo. Ad oggi le attività del campetto sono limitate causa pandemia, ma lì rimane un orto condiviso e c'è anche chi ci abita. Il progetto di riqualificazione significa quindi sgombero. Ci hanno detto o ve ne andate o ve ne andate, fanno sapere dal campetto occupato. La parte più brutta di questa vicenda è che l'amministrazione Costantini e l'ASP2 metta davanti i bambini per fare una mossa prettamente politica, che è quella del nostro sgombero. Quando in realtà sappiamo tutti quali sono gli interessi, sia dell'aggiunta Costantini, sia dell'attuale direttrice dell'ASP2. E sappiamo tutti, sia in città che altrove, quali sono i nostri rapporti che abbiamo avuto, anche se non ci abbiamo mai speculato, come fanno loro, con tutto il circondario del campetto occupato e con i bambini anche, per cui il campetto è stato sempre aperto, compresi quelli del Castorani. Detto ciò, ci sono dichiarazioni già che parlano di uso della forza, di sgomberi e via discorrendo. Oltre ad invitare tutti e tutte all'assemblea che vi sarà domani al campetto occupato alle 18, ci teniamo a dire che se loro pensano di usare la forza, di cacciare e di cancellare un'esperienza sociale, politica, culturale e libera come quella del campetto occupato, si sbagliano di grosso e troveranno una forte resistenza. Il campetto non si sgombera e questo sia chiaro a tutti. L'appalto per i lavori al Castorani dovrebbe essere affidato entro giugno. La Palestini, il cui nome circolava da settimane come possibile candidato sindaco leghista alle prossime amministrative di Roseto, ha subito ricevuto i ringraziamenti del sindaco di Giulianova, Ivan Costantini. Siamo certi che tali interventi di carattere strutturale, ha dichiarato il primo cittadino, sapranno regalare nuove possibilità di aggregazione e socialità per i nostri bambini. Solo alcuni mesi fa, però, lo stesso sindaco aveva annunciato che l'intendeva realizzare un parcheggio. Infatti non è mai stato tenuto segreto che obiettivo dell'amministrazione è, fin dalla campagna elettorale, lo sgombero del campetto occupato e dei soliti anarchici contro cui puntare il dito ad ogni contestazione cittadina.